Dopo 4 anni si rinnova il portale e-commerce dei regali solidali www.geneticamente diverso.it A distanza di 4 anni dal primo lancio avvenuto nel 2016, la cooperativa sociale futura rilancia l'attività di oggettistica regalistica solidale, rinnovando completamente il sito che raccoglie le migliori produzioni non solo della cooperativa di San Vito al Tagliamento, ma di ben 30 realtà sociali italiane. Una sorta di Amazon solidale che ha l'obiettivo di crescere ed espandersi ulteriormente per promuovere la diffusione dei prodotti etici. Nonostante il duro colpo inferto dall'emergenza coronavirus nel settore delle cerimonie e pomponiere, la cooperativa sociale futura ha deciso di non lasciarsi fermare dalla paura e dai dubbi sul futuro. Dal 2016 e seppur con scarse risorse, su www.geneticamente diverso.it ci sono stati oltre 140.000 visitatori unici per quasi 1.500 ordini che sono stati spediti in tutta Italia. Un totale di 21.734 prodotti distribuiti e solo 9 ordini rimborsati di clienti non soddisfatti.